In realtà la situazione è molto tranquilla in questo momento perché fuori ci sono anche comparsi degli avvisi, credo, per informare le stesse persone qua dentro dello sgombero imminente. Comunque sia la situazione, lo vedete, delineata come sempre, tende da un lato e dall'altro in fila dove dormono le persone che però adesso, fra poco, dovranno andare via. Chissà se succederà domani mattina all'alba o venerdì mattina all'alba o magari nelle ore successive vedo altri topi, tra l'altro, che stanno sgattaiolando da un lato all'altro della faticente struttura. L'operazione di chiusura del silos è ormai questione di ore. Siamo entrati forse per l'ultima volta nella faticente struttura con ancora i migranti che dormono all'interno delle tende. E già molti di coloro che vivevano nel silos si sono spostati nei magazzini di proprietà del comune in Portovecchio. Ma in merito a questo si è espresso questa mattina a Sveglia Trieste e l'assessore al bilancio Everest Bertoli. Del silos è l'esempio plastico di quello che non vogliamo che succeda in Portovecchio, per questo abbiamo scelto il partenato privato, perché non possiamo immaginare che un immobile si venda e poi venga venduto e poi rimanga per vent'anni in pieno degrado, perché poi il degrado attira queste cose. Sappiamo benissimo, e lo anticipo già che cos'è, se qualcuno vuole polemizzare, che i magazzini di Portovecchio non appena verrà approvato il progetto definitivo dovranno essere sgomberati immediatamente e cominciare l'opera di rigenerazione urbana. Non possiamo assolutamente pensare che diventi appunto il silos 2, 3, 4 e 5, comunque dovranno essere consegnati sgomberi e quindi assolutamente ci saranno delle ordinanze che provvede immediatamente. Tra l'altro in Portovecchio ci sono anche dei lavori, lavori in corso. Dove in questi momenti? Cioè dove si sta lavorando in Portovecchio? In questo momento si sta lavorando nella fila, nel viale, tra la prima e la seconda fila di magazzini, insomma il cosiddetto viale monumentale che dovrà essere consegnato, i lavori dovranno essere consegnati e terminati entro il 2026 perché sono fondi PNRR, quei lavori non solo non possono essere bloccati dalla presenza appunto di clandestini ma soprattutto ovviamente, ma questo lo dico per chiunque, chiunque sia, non si può accedere a un'area di cantiere perché appunto costituisce pericolo per chi accede in modo non autorizzato in un'area di cantiere.